Stanco dei soliti giochi tutti uguali? Ti sei stufato dei bug, dei filmati in bassa definizione e dei modelli poligonali usciti direttamente da un incidente stradale? Vorresti provare un gioco con grafica spettacolare e realismo senza pari? Allora prova Vitavera! Vitavera è il nuovo social network live game MMO free e roaming RPG sport revolutionary mother fucker. Introduce innovative funzioni nell'ambito del social gaming. Server unico dedicato con 7 miliardi e mezzo di giocatori sempre connessi. Chat vocale e visiva in tempo reale. Nessuna latenza di rete, gioca sempre quando vuoi. Nessun hud o messaggio a schermo per rendere l'esperienza di gioco immersiva e realistica. Dozziliardi di attività esterne alla main quest principale come briscola agonistica, cucina con madre, pulizie domestiche, nanna e potrai farle anche nell'esclusiva modalità co-op per due o più giocatori. Smettila di giocare a quella roba, gioca a Vitavera! Disponibile da sempre! Gratis per i primi 18 anni, poi fuori dei coglioni!